Dottor Paruti, con la riapertura delle scuole è inevitabile affrontare il tema della prevenzione del Covid. Il Ministro della Salute del Governo Meloni, Orazio Schillaci, ha annunciato che in corso un tavolo salute e istruzione i cui risultati finali dovrebbero essere disponibili tra oggi e domani. Qual è la situazione in Abruzzo per quanto riguarda i contagi e le ospedalizzazioni? Abbiamo avuto un incremento rispetto all'assenza di ricoveri, per fortuna, nella prima metà del mese di agosto. Abbiamo avuto una intensificazione anche delle consulenze, che sono diventate molto più frequenti e per fortuna abbiamo questa disponibilità del day hospital per l'immediata somministrazione degli antivirali che ci sta dando una grossa mano nel prevenire che tutto questo incremento si traduca in un aumento dei casi da ospedalizzare. Quindi il contesto è leggermente meno favorevole rispetto a quello di qualche settimana fa, ma sicuramente controllabile, sicuramente gestibile ancora senza nessuna particolare situazione di affanno. Massima allerta sempre su anziani e fragili che va sempre ribadita. Attenzione alla cattiva abitudine di evitare il tampone ai primi sintomi. La diagnosi tempestiva apre a immediati trattamenti antivirali. Il vaccino sarà gratuito per tutti, quindi tutti quelli che vorranno farne una dose successiva hanno ben donde di poterlo fare, perché il Covid non sarà mai come l'influenza. Il suo impatto nel circolo e nei vari organi può lasciare una traccia importante in una frazione dei casi leggeri e questo ce lo dobbiamo sempre ricordare. Tutti gli ultrasessantenni hanno un maggior rischio di poter avere delle, diciamo, croniche, delle persistenti problematiche legate all'infezione, oltre che un tasso di complicanze quando la vaccinazione invecchi più di un anno. E sull'uso di mascherine il dottor Parruti raccomanda. Un uso generalizzato delle mascherine non ha senso. Nel momento in cui tutti gli ambiti sono liberalizzati, a partire dagli ambiti ricreativi a quelli normalmente associativi, non si capisce perché bisognerebbe poi mettere una stretta sulla socialità della scuola. Però ecco, questa attenzione a che tutti coloro che siano sintomatici vivano la responsabilità di preservare gli altri dalle proprie secrezioni, lavandosi spesso le mani e portando una mascherina è ovviamente un consiglio ragionevole.